Il ringraziamento va a te e a tutto lo staff di Rinascita Digitale, è appunto sicuramente una cosa importantissima che state facendo e ho sentito anch'io che vi seguivo di poter offrire in qualche modo oggi il mio contributo. E mi fa piacere appunto farlo subito dopo la Pasqua, in qualche modo, quindi inizio di una nuova settimana, sono il primo relatore del giorno e come primo relatore del giorno ho voluto portare in qualche modo un tema che a me è particolarmente caro, il tema delle emozioni e in particolare la competenza dell'intelligenza emotiva. E so che in settimana già ci sono stati altri relatori che hanno parlato di questa competenza che ormai penso che sia diventata appunto come scrivo nel titolo una competenza distintiva e lo sarà ancora di più nei giorni a venire. La competenza distintiva sia per la nostra vita, sia poi in ambito lavorativo, in ambito appunto di business. Oggi volevo appunto trattare il tema dell'intelligenza emotiva come competenza distintiva per la rinascita, soprattutto per la rinascita interiore. E mi sono detto, Massimo, cosa puoi dare di diverso anche rispetto a quelli che sono stati gli interventi degli altri relatori su questo tema? Si è detto tanto e allora mi sono un po' riflettuto perché comunque questa è una competenza poi vedremo che si allena e anch'io volevo fare questo intervento non tanto con l'obiettivo di diciamo offrire delle competenze in qualche modo, no? Ma piuttosto il mio obiettivo oggi è quello di ispirare, mi sono detto come posso ispirare in qualche modo, no? E lo posso fare anche attraverso quella che la mia professione di coach, in qualche modo io sono un coach e quindi utilizzo le domande per aiutare l'altro a prendere degli altri punti di vista, no? E quindi mi sono detto ok, posso organizzare questo webinar in maniera differente, quindi quale percorso seguirò in questo webinar? Seguirò un percorso fatto di immagini metaforiche, cioè immagini scelte in qualche modo, scusate la C, l'ho vista e rivista questa presentazione e poi è sfuggita, immagini che ho scelto in qualche modo proprio per rinascita digitale. E che cos'altro? Domande, domande del coach? Farò appunto delle domande, le cosiddette domande, noi le chiamiamo domande potenti, che in qualche modo potranno ispirare, spero, delle riflessioni, perché è quello che realmente vorrei passare in questo mio speech. Sicuramente ci saranno appunto dei momenti dedicati a pillole formative, in qualche modo è un tema che sto studiando da molto tempo e quindi è un tema che sto praticando da molto tempo, quindi sarà ok anche l'occasione per darvi qualche informazione in più sul nostro mondo interiore. E poi farci ispirare anche da alcune frasi, siamo tutti a casa in qualche modo, stiamo ecco leggendo magari di più e quindi qual è il miglior modo di farci aiutare anche da alcune frasi? E vi riporto appunto alcune frasi che magari stanno ispirando me in questo momento, che sto anch'io a casa come, diciamo, imprenditore, perché comunque sono anche un imprenditore e sto affrontando anche io questo momento particolare di difficoltà con tutte le sfumature emotive del caso. E quindi direi di partire. Il mio obiettivo è quello di ispirarvi e poter passare in qualche modo da, diciamo, emozioni che in questo momento, credo, stiamo vivendo un po' di, diciamo, di ansia, di incertezza, legata all'incertezza, a un equilibrio interiore. Quindi attraverso questo percorso vedremo insieme come riequilibrarci interiormente. Questa è la prima domanda che voglio porvi. Che emozioni stai vivendo più frequentemente? Cosa senti? Qual è il mood che di solito state vivendo in questo momento? Se volete potete rispondere anche in chat e poi vedremo insieme le risposte. Questo sono io un paio di anni fa. Mi sono appunto definito con l'emozione sorpresa. Poi magari l'espressione del volto, quando ho fatto la foto, non sarà proprio quella di sorpresa. Una foto bellissima che avevo messo anche su Facebook e che ho voluto recuperare. Questi ragazzi che impersonavano proprio le emozioni. Non so se avete appunto stato parlato anche nei precedenti giorni. Bellissimo film Disney, Inside Out, che parla proprio del tema delle emozioni. E quindi ognuno di questi ragazzi interpreta un'emozione anche attraverso la propria espressione del volto. Questo sono io senza barba. Adesso appunto doppia versione. Adesso sto facendo ricrescere la barba, visto che siamo di nuovo in casa. E sono anch'io in un periodo di sviluppo anche interiore, di crescita interiore. Quindi attraverso quest'immagine ho voluto appunto sintetizzare quelle che sono ormai risapute le emozioni di base. E le emozioni che sono state appunto definite da Paul Ekman, che era appunto uno psicologo, che aveva evidenziato proprio sei, poi appunto c'è anche una settima emozione che ho definito qui, che sono come le emozioni di base. Cioè quelle emozioni che vengono appunto riconosciute in tutti i popoli del mondo. E allora in questo momento ognuno di noi può vivere questo momento ecco di incertezza, di insicurezza in maniera diversa. Può vivere un momento di paura. Vedremo diciamo il mood dell'ansia e della paura. Sarà appunto il tema che tratterò in questo momento. l'emozione più arcaica, diciamo più antica, che ci portiamo dietro dagli uomini primitivi e che ci ha permesso diciamo di sviluppare l'evoluzione appunto dell'uomo. Oppure possiamo provare un senso anche di tristezza, quindi di chiusura in noi stessi, no? Quindi questo senso di impotenza e di impossibilità. Oppure il fatto di avere delle privazioni in questo momento ci può far provare un sentimento di rabbia, di frustrazione. Oppure piuttosto di disgusto. Il disgusto appunto è legato ai sensi, il disprezzo è più appunto un'emozione legata all'aspetto sociale, no? Di disgusto, di strezzo rispetto appunto a come stanno andando le cose, a come ci si sta muovendo. Oppure la sorpresa, la sorpresa continua che di solito non è mai neutra perché la sorpresa è accompagnata sempre da qualche altra emozione che può essere appunto la rabbia o la tranquillità oppure la paura stessa. Magari certamente in un primo momento questa diffusione della malattia ci ha porti tutti di sorpresa. Ecco, questa è la prima immagine che ho selezionato, l'immagine delle lucciole che sono appunto in un bosco. Ho voluto fare proprio il parallelismo con le lucciole e le emozioni e parlare di cosa sono le emozioni. Io ho scritto le emozioni generano luce nella nostra coscienza, così come le lucciole hanno una caratteristica, quella della bioluminescenza, quindi sono appunto riconosciute appunto per questa loro caratteristica. Tra l'altro le lucciole fanno luce nella notte e tra l'altro sono conosciute per la loro efficienza perché non disperdono la luce in natura, sono uno degli esseri viventi che non disperdono l'energia della luce. E questa luce delle lucciole ha una funzione, così come poi vedremo lo hanno le emozioni, e la funzione della luce delle lucciole è una funzione legata alla funzione riproduttiva, quindi la cosa più importante, no? I maschere femmine delle lucciole, diciamo sì, nel bosco fitto e buio, attraverso la luce, si fanno notare e si fanno vedere, no? Per riprodursi. E allora cosa sono le emozioni? Ho voluto definire le emozioni come un evento fisiologico attenzionale, cioè le emozioni sono qualcosa di biologico, ci arrivano e in qualche modo, come noi tutti stiamo vivendo in questo momento, difficilmente possiamo bloccarle, ci possiamo tentare, ma difficilmente riusciamo a bloccarle. Ho parlato di evento fisiologico perché le emozioni in qualche modo ci stanno, ci vogliono dire qualcosa, le emozioni vogliono portare l'attenzione su qualcosa. Ho detto prima che le emozioni possono generare in qualche modo luce nella coscienza, ma questo se noi riusciamo ad essere consapevoli dell'emozione che stiamo vivendo e soprattutto della loro funzione, purtroppo nella maggior parte dei casi e del caso che stiamo vivendo magari adesso, noi perdiamo di vista il cosa ci vogliono dire le emozioni e il come fare, come fare a gestire queste emozioni, cioè che cosa farce con le informazioni che ci sta dando queste emozioni. Quindi un primo punto importante che voglio passare è appunto questo, che comunque le emozioni per quanto piacevoli o spiacevoli vengono vissute da noi, comunque ci stanno dicendo qualcosa e ci stanno ponendo l'attenzione su qualcosa, sta a noi portare alla coscienza che cosa ci stanno dicendo queste emozioni e come reagire ad esse per renderle ancora più funzionali. Questo è sicuramente un primo messaggio importante che mi preme sottolineare. Un'altra definizione delle emozioni ce la dà un altro psicologo, Siegel, nel 2001, che definisce anche qui le emozioni come degli stati di attivazione che convolgono l'organismo ed influenzano il modo in cui noi elaboriamo appunto le informazioni, guidandoci nell'attribuire i significati a tutto ciò che succede. Molto bella e interessante questa definizione, che riprenderò anche più tardi, perché appunto le emozioni ci guidano nell'attribuire i significati. Il problema è quando noi non sappiamo darci questo significato, quando non riusciamo a trovare una definizione precisa all'evento, a quello che ci sta succedendo, no? E del caso, diciamo, del tempo attuale con questa malattia che si sta diffondendo velocemente, che quindi ci sta tutti preoccupando, no? In qualche modo. Prima di arrivare a questo, però, volevo fare un altro focus sulle emozioni e, diciamo, esprimere quello che magari qualcuno giornalmente vede, ma su cui non ha mai rifiututo. Cioè il fatto che l'emozione è qualcosa di personale, l'emozione è qualcosa di unico, fa parte del proprio mondo interiore. ognuno di noi interpreta gli eventi in maniera diversa e si porta dietro anche, diciamo, un'emozione differente, no? Vedremo come, in qualche modo, l'emozione e il pensiero sono legati tra di loro. E quindi l'errore più grande che si fa nelle relazioni è anche quello di discutere delle emozioni, di metterci, diciamo, a controbattere delle emozioni dell'altro, a giudicare le emozioni dell'altro. Ricordiamoci che quando si sta su un campo emotivo il rispetto è la prima cosa essenziale. e quindi quello che ho imparato, diciamo, prima di tutto nella vita, con le esperienze di vita e poi nella professione come coach, è appunto di non giudicare, soprattutto quando ci sono di mezzo le emozioni. E quindi c'è un aspetto di sensibilità a cui dobbiamo osservare nei confronti del mondo interiore dell'altro. E un'altra caratteristica dell'emozione è che questa è dilagante. Ho voluto utilizzare questo termine, dilagante, e non un altro che, diciamo, porterebbe ad altri tipi di associazioni, proprio per intendere due cose. Cioè il fatto che a volte le emozioni dilagano in noi e quindi ci sembra di perdere il controllo di queste emozioni. E quindi quando appunto ci arrivano emozioni piacevoli come la gioia è fantastico, ma quando appunto dilaga in noi la paura o l'ansia questo può diventare più disfunzionale. E poi è dilagante non solo nei confronti del nostro mondo interiore, ma purtroppo possono coinvolgere anche gli altri. Cioè io attraverso la mia emozione influenzo anche gli altri e quindi posso influenzare anche l'emozione dell'altro. Questo è, secondo me, un assunto importante che dobbiamo tenere presente del fatto che quando noi siamo focalizzati su delle emozioni poco piacevoli influenziamo anche le persone che ci sono vicine, quindi influenziamo anche il mondo esterno. Quindi vale la pena per noi e per gli altri di focalizzarci su emozioni invece più piacevoli. Andiamo al problema di oggi. ho detto appunto che le emozioni aiutano anche nella definizione di significati, no? In qualche modo vedremo le emozioni influenzano anche le nostre decisioni. Ma qual è il problema? Perché adesso attualmente stiamo perdendo il controllo anche delle nostre emozioni? Io parlo molto spesso di ricerca di significato. Il nostro cervello trova sodderadevole l'incertezza. Addirittura preferiamo anche una cattiva notizia all'ambiguità, no? Questo... A me piacciono sempre questi giochini e queste figure che derivano appunto dagli studi diciamo legati proprio alla percezione umana. e questi studi appunto sulla percezione oltremodo ci pongono attenzione su un fatto. Cioè queste figure rappresentano dei casi in cui si percepisce più di quanto ci sia nello stimolo fisico. Diciamo guardando tutte e tre le figure oppure vi ho dato già già la risposta la risposta sotto. Vedremo nella figura di sinistra un cubo, no? Un cubo magari bianco ma in effetti questo cubo questo cubo non c'è, no? Perché se si vede da un'altra prospettiva questa figura ci sono una serie di cerchi che non sono neanche compiuti, no? Qualcun altro potrebbe vedere diciamo anche delle frecce però il nostro cervello per completezza appunto disegna il cubo come nella figura centrale per completezza si vede una finestra di punti al centro. Nella figura a destra appunto noi percepiamo due triangoli, no? Magari il triangolo capovorto in basso che alla fine non è non è neanche disegnato appunto una rappresentazione del nostro cervello. Quindi questo che cosa che cosa significa? Che noi appunto a livello cognitivo abbiamo necessità di sicurezza, no? Il nostro nostro cervello attraverso la sicurezza si gratifica anche con un ormone importante che è la dopamina e ha necessità appunto di stare bene, Anche il nostro cervello vuole stare vuole stare in una zona in una zona di comfort. Il problema attuale è quando questa certezza non ce l'abbiamo perché adesso viviamo in un momento critico per il mondo anche per il mondo scientifico e questo ci rende tutti vulnerabili e in qualche modo ci ha aperto anche magari ad emozioni ed emozioni in noi sopite che purtroppo adesso ci stanno un po' accomunando o magari diciamo all'inizio ci hanno molto colpito. Di quale emozioni sto parlando? Lo vedremo tra poco appunto delle emozioni soprattutto dell'ansia e della paura che ci stanno attagliando in questo momento. La prima riflessione che voglio fare però è appunto attraverso una prima frase importante che ci arriva da Carl Young che ci dice la tua visione diventa chiara solo quando guardi dentro al tuo cuore che guarda fuori sogna che guarda dentro si sveglia. Questa frase che cosa che cosa mi ispira? Mi ispira il fatto che in questo momento appunto dove fuori non abbiamo sicurezze diciamo non abbiamo incertezze cosa cosa si può fare? Si può soltanto guardare in se stessi trovare la certezza dentro dentro di noi cominciare a recuperare le risorse che ci servono appunto per rinascere nuovamente quindi per l'auspicio di questa rinascita interiore e quindi voglio porvi alcune domande se volete poi potete rispondere nella chat per il momento finale vediamo se abbiamo tempo di condividere alcune risposte che sono anche qui prettamente personali e quindi la domanda che vi pongo è perché il forse ti crea incertezza non sapere perché ti crea incertezza in quali aspetti della tua vita hai bisogno di più chiarezza in che modo tu solitamente crei chiarezza a che cosa ci servono le tue incertezze e poi quanta influenza hanno su di te in questo momento abbiamo visto prima quale è l'emozione che questo momento di incertezza ti sta procurando poi magari segnatevi queste domande e ve le riportate in riflessione successiva magari dopo questo webinar o dopo la giornata di webinar che seguirete su di nascita digitale e andiamo al punto la prima emozione è l'incertezza e l'ansia almeno è quella che io ho provato quando ho iniziato a consapevolizzare che qualcosa stava stava cambiando intorno a noi e l'ansia che cos'è? è una forma di angoscia e è comunque una forma di paura ma rispetto alla paura è una paura senza oggetto quindi più indistinta e generalizzata una paura senza via d'uscita che perdura nel tempo in qualche modo l'ansia purtroppo ci assale no? è l'emozione quasi più dilagante in qualche modo e si manifesta appunto sotto forma di reazioni psichiche che può coinvolgere purtroppo anche il nostro fisico se state provando uno stato d'ansia in questo momento è normale perché appunto è una reazione di allarme come vi dicevo l'ansia fa parte anche dell'altro elemento dell'altra emozione naturale che è la paura è piaciuta questa foto delle meduse che sono da un lato bellissime ma dall'altro lato anche molto paurose perché spaventose sta a contatto con le meduse sono pericolose la paura invece è come un farmaco in certe dosi è utile perché ci fa attivare proprio delle reazioni di autoprotezione che come abbiamo visto a livello arcaico ci salvano hanno salvato noi esseri quando eravamo uomini primitivi ci hanno salvato da questi esseri dico sempre mostruosi che in qualche modo sponvolgevano pensate se mai sono assistiti dinosauri e quindi quanta paura potevano avere i nostri uomini primitivi è chiaro che questa paura se dura troppo a lungo o è troppo intensa inizia a diventare per noi disfunzionale e dannosa per il nostro fisico e la paura solitamente attiva un comportamento classico che è quello dell'attacco e della fuga quando abbiamo qualcosa di pauroso appunto ci sentiamo minacciati quindi solitamente o appunto attacchiamo se pensiamo di avere forza oppure ci diamo la fuga adesso poi vedremo quali possono essere anche le altre reazioni e poi voglio voglio parlarvi di quello che succede solitamente a livello fisiologico rispetto alla nostra quando si mettono in noi queste emozioni di paura o di ansia e prima di tutto si attivano delle citossine degli ucolieni e si attiva una forma di cortisolo purtroppo non sano perché è un cortisolo in eccesso che attiva in noi una tossicità nel nostro organismo una tossicità che proprio in questo momento in cui siamo particolarmente esposti dalla malattia non dovremmo non dovremmo avere perché il cortisolo appunto è una forma molto molto diffusa che è appunto un ormone delle emozioni fa indebolire il nostro corpo e quindi lascia la porta aperta purtroppo a quelle che sono le infiammazioni e poi le emozioni di ansia e di paura ci portano solitamente a che cosa quando abbiamo questi picchi di ansia il respiro si inizia ad accorciare i muscoli si contrappono aumenta il ritmo cardiaco e la pressione del sangue proprio per portare ossigeno ai muscoli aumenta anche la sudorazione proprio per contrastare il riscaldamento dell'attività fisica e la contrazione muscolare quindi avvengono in noi anche dei cambiamenti dal punto di vista proprio fisico e fisiologico che non sono funzionali anche ad altro a dei comportamenti più funzionali anche qui l'equilibrio interiore quelli che sono i pericoli scusate ho voluto mettere qui una foto diciamo abbastanza impattante ma proprio per creare una suggestione in qualche modo impattante e purtroppo l'ansia protratta o la paura protratta possono portarci a dei disturbi sia fisici ma anche soprattutto psichici disturbi come ossessioni addirittura diciamo io credo che una delle prossime ossessioni che si svilupperà sarà la cosiddetta nosofobia a cui dobbiamo stare molto attenti e questo per cui è importante la gestione dell'ansia la nosofobia è la paura ossessiva della malattia che è dovuta appunto ad uno stato d'ansia molto molto protratto in noi ed è quella famosa malattia che aveva purtroppo Michael Jackson e l'ansia protratta la paura protratta ci portano anche ci possono portare anche appunto delle depressioni quando appunto io reagisco in maniera più down oppure purtroppo a dei picchi emotivi molto alti che ci potrebbero portare ad attacchi di panico piuttosto che anche a livello di disturbarci anche a livello di pensiero è come se appunto l'ansia diventa dilagante e ci porta anche a pensieri ossessivi a volte il lupo pensieri bloccati stress quindi ulteriore stress stress che si può protrarre nel nostro fisico quindi stress fisico stress psicologico e l'ansia in genere porta ad un'estrema nostra vulnerabilità e anche purtroppo ad un aumento dell'ostilità verso l'altro e questo è importante da tenere presente perché io quando siamo in uno stato d'ansia è come se diminuisse la nostra barriera protettiva e quindi in qualche modo a livello relazionale diventiamo anche più aggressivi nei confronti degli altri e quando l'altro lo percepiamo come contrario rispetto a noi stesso quindi una volta che teniamo presente questo in noi teniamo presente questo anche negli altri quando li vediamo reagire in maniera a volte troppo ostile nei nostri riguardi una forma di vulnerabilità che si crea e quindi certamente guardando questi pericoli osservando questi pericoli e anche io che magari appunto come vi dicevo a volte sofferto di stati d'ansia mi dico no io non posso non posso arrivare a questo a questo estremo voglio cambiare voglio cercare di fare qualcosa di diverso ok e tra breve vedremo come passare ad un equilibrio interiore differente e l'ansia ci porta l'ansia e la paura come ho detto ci portano appunto all'attivazione di alcuni comportamenti tipici a volte cerchiamo di evitare l'ansia quindi di sottrarci a questa situazione che provoca l'ansia ma per la maggior parte dei casi purtroppo con scarso successo oppure ahimè ci sentiamo bloccati no la paura l'ansia protratta ci bloccano e quindi ci sentiamo incapaci di svolgere qualsiasi attività evitiamo gli sforzi fisici mentali sociali no è una prima forma di isolamento e quindi ci potrebbe portare diciamo ad una depressione dopo e oppure un comportamento di controllo eccessivo no di ossessione come abbiamo visto che possiamo che possiamo avere quindi iniziamo con i rituali di controllo di verifica di polizia di ordine oppure che sono appunto legati anche con l'iperattività purtroppo magari in questo in questo periodo un po' meno essendo appunto bloccati bloccati tutti tutti a casa ma magari stiamo stiamo diventando iperattivi con altri mezzi no per esempio con il web con il telefono come se diciamo dentro di noi si attivasse un una un circolo vizioso e non virtuoso cioè un circolo che ci come abbiamo visto ci fa male perché non non ci permette più di essere di essere lucidi di essere attivi e di intervenire poi sulla nostra vita quindi questa che vi ho descritto è la forma dell'emozione che diventa in qualche modo nociva per noi e ci crea appunto un dilottamento e quindi quello che vogliamo evitare appunto è che l'emozione ci sequestri e prenda ci prenda totalmente possesso di tutto quella che è la nostra capacità cognitiva di appunto di pensiero che abbiamo il ciclo vizioso che si che si attiva magari può essere preparato da altri stati contestuali per esempio il non dormire bene il mangiare male che possiamo attivare in questo in questo momento quindi un senso di stanchezza arriva questo questo evento come può essere appunto la malattia oppure la notizia dei aumenti di contagio ed ecco qui che a livello cognitivo io inizio a interpretare questo evento come una minaccia un pericolo un problema e qual è la reazione successiva l'abbiamo visto vorrei appunto attaccare oppure vorrei vorrei fuggire oppure piuttosto mi blocco e la risposta emotiva l'abbiamo vista prima questa è l'ansia la paura la frustrazione la rabbia e cosa succede a livello fisiologico di cervello una breve appunto filo informativa perché come vi dicevo siamo appunto degli esseri cerebrali io dico sempre che io sono psicologo psicologo del lavoro nella nella parte psicologica c'è un lato scientifico e quindi certamente quando parliamo di emozioni c'è un lato scientifico e questo è quello che volevo focalizzarvi poi c'è un lato più più personale che io definisco appunto l'anima che è qualcosa che sta dentro di noi e che difficilmente la scienza ci può esprimere però fermandoci al dato scientifico che cosa viene il dato scientifico è che noi abbiamo il nostro sistema limbico che si occupa appunto della gestione dell'elaborazione delle emozioni e in particolare qui ho voluto evidenziare il ruolo di due piccoli organismi all'interno di questa macchina così complessa che è il nostro cervello uno è la micrata e l'altro è l'ippocampo e la micrata che immagazzina i ricordi emotivi e attiva la risposta proprio emotiva di paura ed ansia quando appunto viviamo l'interpretazione di una minaccia si attiva la miglada che risa quindi il cervello e il corpo di pericoli imminenti il ruolo della miglada è stato visto soprattutto da esperimenti scientifici da persone che con una miglada compromessa non riconoscevano più le situazioni di allarme di pericolo e rischio e quindi questo ha portato appunto il ruolo della miglada nell'elaborazione di questo tipo di emozioni qui l'importanza della miglada sull'elaborazione di queste emozioni e poi il ruolo anche dell'ippocampo che immagazzina i dati emotivi e li codifica sotto forma di ricordi un ruolo fondamentale gli eventi più più importanti che noi ricordiamo sono appunto quelli che ci hanno scosso più emotivamente e purtroppo magari questo momento quando è scoppiato a coronavirus ce lo ricorderemo per molto tempo e quindi per cosa avviene che a volte quando scatta la miglada con questi sentimenti queste emozioni forti di paura date da questo momento di certezza l'ippocampio interviene anche con l'esperienza emotiva quindi ci interviene ad aggiungere altre informazioni e quindi a volte ecco questa interpretazione però non è non è sempre funzionale non riusciamo sempre ad agire funzionalmente ad attivare un pensiero un pensiero diciamo diverso da quello che è il pericolo e quindi spesso rimaniamo imprigionati dalla nostra miglada e non riusciamo ad attivare invece quella che è la parte del del cervello più nuovo e quindi a far funzionare meglio la parte cognitiva la parte di pensiero e qui appunto voglio fare lo swish rispetto a quello che è il tema di oggi che è quello di passare da una forma di disequilibrio emotivo a una forma di equilibrio interiore e ho scelto la foto appunto di un surfista che naviga su sulle acque sulle onde non sono neanche onde molto alte a dir la verità però è un surfista che tutto sommato sta a suo agio e la frase che ho portato sopra è molto importante perché ci fa capire ecco ancora una volta una delle funzioni del nostro cervello no? ed è a volte una risorsa altre volte no si trasforma in una trappola cioè il fatto che la mente e il corpo non distinguono ciò che è reale da ciò che è immaginario diventiamo ciò che pensiamo allora questo questa informazione però è importante cioè il fatto che molto spesso se noi diciamo ci creiamo un giudizio sul nostro sul nostro sul mondo che ci circonda diamo delle interpretazioni appunto su questi eventi allora questa interpretazione diventa diventa la realtà e a volte appunto invece la realtà è altro la realtà è altro ma noi siamo talmente convinti delle nostre interpretazioni che la realtà ci inizia a sfuggire e diciamo che non riusciamo davvero ad avere una connessione con la nostra con la nostra realtà quindi questo racconto è qualcosa che ci porta appunto ancora una volta ad una disfunzione quando noi interpretiamo la realtà al nostro modo come abbiamo visto un evento negativo lo percepiamo come minaccioso allora attiviamo l'ansia e la paura attiviamo il portisolo quindi ci viene stress stiamo male a livello fisico i nostri pensieri iniziano a diventare anche negativi quindi però abbiamo anche un'altra possibilità no e quella invece di guardare in maniera diversa ecco quindi quello che il passaggio dalle due diciamo possibilità che abbiamo da un lato focalizzarci su immagini che ci angosciano quindi selezionare immagini che ci che ci angosciano e che alimentano quest'ansia dall'altro invece selezionare immagini che ci ci carmano questo però non è facile perché presuppone due competenze distinte no una una competenza che utilizza in questo senso il surfer quello che sta surfando e di vedere il mare e le onde come sfida quindi anche come divertimento perché lui lui si diverte no a stare a stare lì e oppure vederlo come pericolo no certamente se il surfer avesse visto il mare e le onde come pericolo non si sarebbe non si sarebbe lanciato lanciato così ok quindi anche noi abbiamo sempre questo questo video ok ho una minaccia di fronte c'è una difficoltà di fronte come la voglio vivere come come un pericolo come una sfida voglio viverla come una risorsa una risorsa o come un ostacolo rispetto a me stesso sono due strade completamente separate no quindi il focus sulla sulla sfida la risorsa l'opportunità e il focus sull'ostacolo e pericolo no da un lato io divento vittima degli eventi dall'altro invece mi rendo responsabile e quindi inizio a guardare quelle che sono le risorse interiori che ho dentro di me per poter attivare e poter esserci in quella situazione per poterla in qualche modo risolverla o quantomeno affrontarla che è quello che fa il server un'altra un'altra immagine quindi per l'equilibrio interiore mi è venuta è quella dell'elefante e del topino appunto quello che vorrei è che noi come piccoli topini ci rendessimo alleati dell'elefante e quindi in qualche modo come metafora il topino che va a nutrire l'elefante e quindi questa connessione che dobbiamo avere dentro di noi e quindi qui c'è un'altra domanda che vorrei porvi proprio per il passaggio dell'equilibrio interiore abbiamo visto come in qualche modo l'emozione è legata anche al nostro pensiero cambiando il pensiero posso cambiare anche l'emozione che c'è dietro e allora avendo compreso questo adesso ti chiedo qual è il pensiero ispiratore che vuoi prendere per il tuo e l'altrui benessere e qual è l'immagine che può nutrire il tuo animo in questo momento e portarti in una direzione diversa una direzione più di equilibrio rispetto a te stesso e agli altri ok segna sempre queste domande mettile da parte e datti il tempo per rispondere e qui c'è d'aiuto certamente la psicologia positiva i studi di Martin Seligman questa anche è una risorsa importante che noi possiamo avere che diciamo tutti hanno di guardare le cose da un punto di vista diverso significa quindi selezionare delle informazioni diverse selezionare delle immagini diverse significa anche iniziare a cambiare il nostro linguaggio abbiamo visto significa appunto rendersi abile a rispondere affrontando le situazioni ovviamente questo è quello che noi nell'ambito dell'intelligenza emotiva chiamiamo proprio esercitare l'ottimismo è difficile esercitare l'ottimismo in questo in questo momento però ci possono essere tre risorse importanti che possiamo tenere presente diciamo quando ci succedono eventi del genere una prima risorsa è quella della permanenza cioè il pensare che le situazioni possono cambiare no e il cosiddetto tutto scorre e quindi passare da non finirà mai a non è per sempre finirà oppure la pervasività ok pensare che quando ci succede qualcosa non è su tutto l'influenza non può essere su tutto ma l'influenza può essere limitata solo su una parte della nostra vita adesso se abbiamo delle privazioni queste privazioni purtroppo ci creano certamente dei disagi ma non è su tutto abbiamo delle privazioni e d'altro canto abbiamo anche qualcos'altro di bello che magari non stiamo lo stiamo vedendo il nuovo tempo che abbiamo per guardarci dentro il nuovo tempo che abbiamo per guardare diversamente l'altro le persone che ci sono che ci sono vicine e quindi anche poi il concetto di personalizzazione cioè di pensare quale quale contributo io posso dare se c'è un contributo che io posso dare cioè di pensare cosa è sotto il mio mio controllo e invece e quindi sotto anche la mia influenza invece lascia perdere quello che non lo è ok quindi tutto questo ci può far guardare il bello quindi passare ad un'altra ad un'altra visione che è la visione appunto dell'opportunità che ci porterà ad equilibrio e quindi ecco l'equilibrio interiore la domanda è a cosa devo fare spazio per rinascere no il tema è la rinascita no dobbiamo nascere ogni giorno quindi diceva Pablo Neruda nascere non basta e per rinascere che siamo nati ogni giorno ed è bello questo cioè il pensare di evolverci e di cambiare ogni giorno che ogni giorno non siamo gli stessi ogni giorno possiamo essere qualcosa di diverso questo permette e prevede in noi una appunto una capacità anche di essere in qualche modo in qualche modo flessibili e per rinascere abbiamo bisogno di diverse competenze e alla fine di questo di questo speech sto vedendo che il tempo sta scorrendo quindi mi velocizzo e appunto vi ho parlato poi in maniera diversa di quella che è la competenza dell'intelligenza emotiva che è appunto questa capacità una serie di capacità che noi abbiamo e che possiamo allenare anche io alleno giornalmente la mia competenza dell'intelligenza emotiva anche facendo questo webinar mi sono mi sono dato come obiettivo quello di allenare la mia competenza emotiva e la capacità di integrare quindi questi pensieri ed emozioni che abbiamo visto sono legati tra di loro per prendere delle decisioni sostenibili nel tempo per sé e il mondo che ci circonda quindi si impara soltanto praticandola Goleman ne dava un'altra definizione come capacità di riconoscere utilizzare comprendere e gestire in modo consapevole le proprie ed altrui emozioni abbiamo visto come appunto questa competenza comprenda tante tante capacità quello appunto di essere consapevoli di quello che ci sta succedendo di comprendere quello che ci sta succedendo di poter guardare l'opportunità quindi di poter cambiare il nostro linguaggio di cambiare il nostro pensiero proprio per attivare qualcosa di diverso e che possa essere più funzionale per noi e per gli altri brevemente questi sono diciamo gli autori ispiratori del tema sono gli autori che io ho studiato Salove Mayer il tema del 1990 piuttosto attuale appunto poi c'è Goleman e Joshua Friedman che dal 97 appunto con il suo network sta diffondendo l'intelligenza emotiva nel mondo e diventa un grande ispiratore e non so se c'è ancora tempo avevo preparato altre cose ma vedo che sono già le 9.56 e so che insomma rinascita digitale è diciamo è molto puntuale quindi volevo lasciarvi solo con alcune domande poi magari rimanderò successivamente o se volete anche sul mio portale diciamo il proseguo di quello che volevo portare a livello di risorse che fanno parte poi dell'intelligenza emotiva e volevo appunto parlarvi delle domande di altre domande ispiratrici quindi abbiamo detto la domanda per gestire la propria emozione è capire cosa si sta provando adesso ansia paura rabbia frustrazione capire dove proviamo questa emozione e dove la collochiamo nel nostro fisico l'emozione non l'abbiamo detto ma appunto a livello fisiologico ognuno la sente in qualche modo da qualche parte nella cura nel petto nel cuore nella pancia e poi cercare di gestire quanta intensa l'emozione abbiamo compreso anche purtroppo che quanto più intensa l'emozione tanto più l'emozione può diventare pericolosa per noi e ci può dirottare ci può annebbiare ok quindi è importante tenere in equilibrio anche l'intensità della propria delle proprie emozioni una paura in maniera vissuta in maniera intensa può diventare il terrore è una cosa rispondere alla paura è una cosa è rispondere al terrore una paura in diciamo a livelli più bassi può invece essere interpretata come preoccupazione quindi con un'intensità differente quindi preso consapevolezza dell'emozione capire io quale alternativa ho quindi anche a livello di linguaggio a livello di pensiero non cominciare a correggere il nostro linguaggio non cominciare a correggere il nostro pensiero cioè guardare all'evento come una minaccia come una sfida e quindi diciamo anche qui di pormi in una ricerca di quella che può essere la risorsa più importante che possiamo avere può essere la risorsa per esempio del coraggio la forza lo stesso equilibrio l'allineamento che noi dobbiamo dobbiamo ricercare oppure appunto guardare la perdita o la possibilità e poi come ultima domanda è quale valore voglio esprimere e come voglio comportarmi cioè quale scopo voglio perseguire ricordiamoci sempre questo è una domanda guida quando ci prendono le emozioni è ok io adesso ho questa emozione io che cosa voglio farmene di questa di questa emozione cosa mi serve come la posso portare ad un livello migliore per me e per gli altri cosa quale valore più profondo voglio voglio esprimere con con le mie con le mie emozioni ok quindi ciao massimo sono francesco scusa se ti interrompo ma ho visto che sei andato lungo e ti ho lasciato sfruttare al massimo ogni ogni seconda di spositiva grazie grazie guarda termino solo con questa con questa frase ho terminato ho fatto dettagli e proprio per diciamo sempre per passare ad una ad una visione diversa le parole di di Seneca niente dura per sempre poche cose a lungo varia solo il loro modo di essere fragili il loro modo di finire ma tutto ciò che ha avuto un inizio avrà una fine grazie grazie a te massimo grazie ho visto un sacco di complimenti è sicuramente un intervento che ha appassionato molti dei 234 partecipanti attualmente online non ci sono purtroppo non c'è spazio per eventuali domande ti chiederei magari di mettere come ultimissima slide la bibliografia così chi volesse appunto può sicuramente una ricca una ricca bibliografia quello Ekman Joshua Friedman e poi questo bellissimo libro come fare per chi ti succedano cose belle di Marianne Roa Estapè è spagnola oppure ecco anche dei libri molto insomma molto semplici come intelligenza emotiva pocket o piuttosto intelligenza emotiva pocket vu delle aggiunti e poi una lettura insomma bella e brodo caldo per l'anima storie che scaldano il cuore e confortano lo spirito e per ultimo insomma metto anche i miei testi dove comunque parlo del tema farsi assieme in tempo di crisi ottieni il lavoro che vuoi ti chiediti della Franco Angeli è offline è bello questi vabbè poi c'è una ricca sitografia che magari lasciamo appunto per la parte web dove insomma scrivo diversi ho scritto diversi articoli sul tema comunque anche sul mio blog massimoperciavalle.it oppure sul blog della mia società www.makeitsow.it oppure scrivo su psicoadivisor psicoonline e faccio parte appunto di different academy dove vi potete tranquillamente trovare questi sono appunto alcuni network a cui aderisco e che ringrazio perché mi permettono appunto di allenare la mia intelligenza emotiva con connect different l'albo di psicologi cf six second il centro di body language e poi ecco questi sono i miei dati per per trovarmi e il mio indirizzo email m.perciavalle www.makeitsow.it se volete visto che non abbiamo avuto tempo potete appunto scrivermi qui le vostre considerazioni i vostri feedback e perché no se avete voglia anche di condividere le risposte ad alcune domande che vi ho fatto che spero vi abbiano ispirato in questa giornata grazie assolutamente intanto grazie mille Massimo ti rinnovo i complimenti del pubblico grazie mille